e ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovissimo video sul canale siamo qui su zula guardate chi c'è al nostro fianco seduto qua perché si è scostato vabbè c'è qui nostra compagnia vincenzo raga ciao genix raga siamo qua su zula e come vedete vi faccio vedere che ora non si vede se vado in negozio qui in basso abbiamo 11.204 di zula che sono quella che ho guadagnato giocando e abbiamo 10.150 di monete scioppate scioppate raga abbiamo 10.000 monete scioppate ora io finora mi sono trovato bro io mi trovo con la OG allora costa 950 per un giorno 12.000 per 30 giorni raga non ce li ho 12.000 7 giorni 15.000 raga io lo sciopperei per un giorno per farvelo vedere a voi poi visto che costa 15.000 per 7 giorni mi mancano poche monete di zula lo scioppiamo per 7 giorni cioè entro stasera perché entro stasera giocheremo quindi ci sta allora compriamo a comprare questo e uno dobbiamo scioppare la prima cosa poi pistola pistola clock ovviamente la clock 7 la clock per 9 adesso si scioppano tutto per oggi bro voglio fare la partita del secolo stasera così faccio i punti capito la clock 18 bro è ovvio le altre non viaggiano poi extra extra che possiamo comprare giubbotto e altri paghetti li posso comprare quale monete un giorno 550 compra poi kit d'azione che cos'è no questo non ci interessa cambio rapido ci interessa questo 400 scioppa ricarica rapida scioppa tutto però sto comprando riduzione rinculo scioppa cadenza di tiro già ce l'ho ancora per 7 ore riapparizione rapida questo qua se no è un po' più caricatore extra scioppa ricarica rapida scioppa ok raga raga abbiamo quasi tutto poi cosa posso comprare più oggetti cosa è gli uscetti qua bonus materiali ah dov'è rp è il coso extra lo che hai fatto l'altra volta ecco qua zula point extra questo sarebbe un giorno 300 ma questo qua lo compriamo eh questo qua lo compriamo più 25 ci sta perché io tengo il più 25 no io sto parlando di punti extra quando vinci la partita così almeno fai più soldi 500 monete compra qua raga che dice apriamo bel mazzo un bel mazzo bro sciopriamo bel mazzo vai eh mazzo di platino con skin garantita super mazzo di platino con l'arma il più grande bro 3000 costa 3900 c'ho ancora 6000 d'oro raga siamo pronti compra 1 2 3 vai vediamo che ci esce voglio aprire il tuo mazzo si per me vediamo un po' che mi esce non comune rara non comune è rara allora skin per la zicana P90 l'M4 bro nemmeno una cosa che c'ho tutte cose delle armi che non ho e poi poi questa è la gata MX3 vai compra fa più danno vabbè in tutto questo non è entrata nessuno che bello guarda quanta gente è entrata bro ci sta hangar hangar pro è bella bro nooo non posso rendita te oh cansi posso rendita te parti 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 crediamo che non incominciate da parecchio vai raga vai raga guarda c'è gente che già che muore siamo vabbè no siamo siamo iniziati da poco dai oh oh è uno ah qua le pareti sono bucate al centro che cosa che cosa sono bucate le pareti acese sono bucate i fletti ripassano davvero ma morice double kill perché una canata così a casa raga ho preso qualcuno con una canata oh oh eh di shock double kill attenzione ragazzi triple kill triple kill attenzione buccia eh m'hanno ucciso oh tutto questo sai chi l'ho fatto bella bella la differenza non la noto cioè non so forse non la noti però ci sta tipo delle cose scioppate le cose in più cambio rapido si cambio rapido lo vedo buttare l'hamburger dalla finestra ahia la bugga della finestra cosa tutto 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 un po' blommazzo il brommazzo questo è un po' ammazzato ammazzato quello sulle scale solamente tra qualcuno di qua buttava una danata oh oh eh ho ucciso uno che hanno ammazzato ma così l'abbiamo vinto così dai si chiama un bel gg in chat il tempo che ci capisco come si scrive lasciamostà oh fabbrica del legno vai minchia la mappa nostra questa vai vai parti parti comunque in tutto questo fatemi sapere se vi piace Zula perché ho visto che live alcune persone hanno detto no Zula no che schifo poi hanno visto che è bello cioè è bello raga questo gioco a me piace che devo dire è bello è fatto bene per la grafica che c'ha per tutto quello che c'ha comunque è fatto bene ammazzato troppo forti raga troppo forti oh cacchio quello mi stava facendo male mi stava facendo male belli belli e forti andiamo andiamo lo spawn massacriamoli tanto raga questo c'è un dolino che c'ho qua vicino la UG di Deadpool bello oh oh ammazzato go dietro no madonna madonna non è bella la UG raga madonna raga madonna raga madonna raga è vero siamo tipo spawn 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 kill spawn kill lando ma cacchio ti dice ma frega guarda li cattivissimi loro sono qua eh uno l'ho ucciso però l'ho ammazzato col cecchino stanno un po' stare tipo uno col cecchino bro devi calcolare che siamo 21 e 17 rimane a 17 kill ci rimane a 200 kill qua oh chi è chi è ucciso ucciso però sono rimasto tipo 15 di vita oh oh l'ho visto eh muori c'è oh ho ammazzato uno quello col cecchino ho ammazzato ah l'M4A1 ma ho ucciso quello tutto questo ragazzi stiamo registrando prima della live in tutto questo quindi la live di di martedì oggi è martedì giusto sì oh dietro 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 ammazzato però ammazzato un sacco di da sto ah col cecchino a caso sparano si qua guardale come sparo guarda quello quello col cecchino ucciso ucciso quello col cecchino la aia aia ammazzato quell'altro col cecchino dove qua dietro ah ha fregato e morivi poi oddio raga oddio raga uno morto oddio raga cosa ho fatto raga è divertente quando c'è tipo tre quattro persone di fila via ok eh ma non ci sono l'ammazzato so primo raga so primo raga so primo c'è oh cagate sotto bro oh madonna bro madonna è dotto di vita io c'ho ucciso sali sali ucciso ah c'è otto molta vita c'è 36 di vita siamo a 70 e 40 bro cioè stiamo devastando siamo anche uno in meno lui sono tutti forti nella squadra nostra oh cacchio ucciso oh cacchio beccarista canale madonna raga ecco la clock madonna raga cosa ho fatto raga cosa lasciate un like solo per questa azione raga troppa forza stai diventando gucce carnefice bro ahia la granata flash cacchio non vedo niente eh fucile a pompa ho fatto la granata flash non ho fatto niente stanno si cecchini qua giù no odio ma mori oh bro un altro eh dietro eh il putin là putin di merda putin putin ma cosa vuoi fare headshot boh spero c'è uno qua ah ho ucciso ma sono due di loro proprio uno sta laggiù tipo sai dove sta dove sta le scale loro di fronte proprio appena scende nel fogone là tipo là il fogoncino che sta in fortnite là no 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 ma te che precisione ma non c'è la granata raga no bro perché non mi spavano sto qua boh sto qua bro aiutami bro no ucciso quello che ti ha ammazzato sono altro ok altri due là ma cuntric se vuoi rubarmi le kill per favore cuntric se vuoi rubare le kill vabbè parliamone ok raga sta clock e sta og che abbiamo shoppato è qualcosa di spettacolato tra l'altro il ciondolino l'ogibro è ma cosa vuole oh cacchio un altro non l'avevo visto a volte carico perché voglio stare sempre carico con i colpi e mi fregano oh putin brandi cambiamo un po' tattica perché stiamo un po' ci stiamo rugginando nei tunnel qua c'è sempre qualcuno a volte invece no aspetta raga quante volte devo prendere questo per farlo morire guardalo schifoso l'ho ucciso però mi hanno ammazzato però l'ho ammazzato io a lui ben ti sta 125 raga manca poco oh eh no bro si mette a campare dietro la porta questa sta uno appena sali le scale dietro la porta là lui ce l'ha in faccia questa è morto se non è che vede sto cadavre ecco infatti è morto oddio che è mi sa fatta la vita bro non mi sa fatta la vita è tutto ti è morto oddio che è mi sa fatta la vita bro comincia a non capire più un cazzo bro morto uno double kill cacchio raga cacchio quanta c'è raga quanta c'è c'è panico 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 facciamo sta partita dià bro l'ho colpito nell'occhio a questo non è morto 33 kg 33 kg voglio arrivare a 40 kg prima che finisce sta partita a meno 40 kg ha pure 50 sei bel top però se no me 50 kg non l'ho mai fatta broio e va sto morice headshot bellissimo sto headshot intanto oh cacchio putin putin ok grazie bro mi ha salvato la vita qua con putin oh morto 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 è sempre lui sempre il putin della situazione eccolo qua dietro grande ecco la gente laggiù oh dietro madonna bro l'ho ammazzato giusto non c'è il salvarsi la vita bro bro si salgono sparano a casa e mi ammazzano guarda a destra ok uno ammazzato ma questo mi ammazza sempre a me non ce la ma sei sopra eh si si è messo dietro la porta a destra proviamo un po' la clock raga un po' la clock divertiamoci un po' con la clock chi è che mi ha salvato la vita oh come mi ha salvato la vita no no mi ha ucciso a putin mi ha salvato la vita sono là sono là sono là riuscì la pompa di me no è da dietro no ma come fa una via tu davanti e mi ammazza sto dietro peccato su questo gioco raga che tipo non si poteva correre c'è sì un cortello però sarebbe più figlio poter correre di headshot ok ma dico io perché mi rubate le chili Putin ciao morto vota anche tu Putin 40 kg laga primo obiettivo raggiunto prima di finire questa partita cerchiamo di rimanere a 50 non lo so però se ci arrivo un bel like mi raccomando aia 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 ho poca vita c'ho pochissima vita io copro sempre qua io copro sempre qua da pulchi guardalo guarda ah no col cecchino ok stavo tipo per bestemmiare di brutto se mi avevo ucciso con le m4 da lontano oh oh madonna mazzato un altro sta salendo double kill ultima kill raga è finita ultima kill grandi 44 kill 677 monete raga grandi questo bonus 70% è ottimo raga comunque comunque sono passati su nome ben ora vediamo un attimo andiamo tipo aspettando i ragazzi live hanno ritrovato un quarto d'ora è passato 30 minuti di là di registrazione e vabbè raga io comunque spero che vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like se volete che continuiamo a shoppare su questo gioco a 25 like facciamo shoppare anche vincenzo anche se ce l'ha fatto però non ci arriviamo a 25 io lo so che non ci arriviamo però ve lo dico 25 like ci vuoi se volete che shoppiamo vabbè l'era è live l'era è diversa più le persone ti ascoltano al momento lo lascio nel like vabbè raga qui da toni halo e vincenzo è tutto noi ci vediamo in prossimo video mi raccomando ascia il like già ve l'ho detto bella raga ciao 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 ciao